Ciao Addicted! Oggi siamo in compagnia di una, quella che sembra una box, in realtà sono due all'interno di una sola scatola che mi ha inviato Kilvy Beauty, il brand di Crystal, una ragazza molto simpatica che fa anche delle box, oltre ad avere uno shop e che appunto, della quale vi lascio il link nei commenti appunto per farvi vedere, nel box informativo, per farvi vedere di che cosa si tratta, ho scelto di testare appunto queste sue due box, una di Skincare Coreana, che è personalizzabile quindi voi andate sul sito e vedete che potete scegliere alcuni prodotti in particolare, tra quelli proposti e l'altra invece che ho abbinato è la Occhi Labbra, che invece è diciamo fissa e ci sono varie appunto box sul suo sito e poi potete andare appunto a vederle insieme appunto a noi, appunto 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 e allora questo è il bigliettino che ci ha messo all'interno, grazie per averci scelto seguici sui social, ci sono tante novità e promozioni vi suggerisco di seguirla sia su Facebook sia su Instagram dove la trovate come Killvy Beauty Tutto Attaccato su Instagram e Killvy Beauty su Facebook allora, ci sono come vi dicevo queste due box all'interno ma che carina, ce neanche lo immagino e appunto Crystal, non ci dico troppo appunto mette all'interno anche tanti campioncini sto vedendo dunque, andiamo a vedere, allora mi ha messo qui un bel po' di campioncini allora, di skincare coreana ho di Purito, come vedete si vede? Si, si vede questa crema, ah no, è un sapone per la pulizia del viso di Purito, vi dicevo poi abbiamo, e vabbè ragazzi una crema idratante di Round Lab poi abbiamo di Frudia, che mi piace questo brand credo che sia una maschera no, è una crema al blueberry, al mirtillo e poi ancora abbiamo, sempre di Purito una crema, una crema, eccola qua, Vital 70 questi sono quattro campioncini che ho trovato all'interno poi, che cos'altro abbiamo? abbiamo, come vi dicevo, la box coreana che non ricordo esattamente quanti prodotti può contenere ora è anche in offerta sul suo sito e come vedete io ho potuto scegliere alcuni abbastanza importanti per esempio ho scelto questo di Huxley che è un tonico che è da 120 ml vi faccio vedere subito scusatemi un attimo ve lo faccio vedere che bella anche a me piacciono i packaging ragazzi anche l'occhio vuole la sua parte Secret of Sahara eccolo qua e considerate che quando io l'ho contattata Crystal mi ha anche, diciamo, dato dei suggerimenti in base alla mia età su cosa scegliere questo è un tonico idratante vi faccio vedere dietro rinfrescante con estratto di cactus oltre il 90% degli ingredienti sono naturali poi abbiamo questo qui che è d'alba White Truffle Luxury Glow ed è, aspettate che è chiuso un Oil Watery Anti-Age quindi considerate però che ci sono tantissimi prodotti che potete inserire nel senso non è obbligatorio scegliere quelli che ho scelto io io l'ho scelto in base alla mia età alle mie esigenze di pelle guardate che bello questo ragazzi sembra un qualcosa da mangiare un olio appunto al White Truffle di White Truffle no, di d'alba Piemonte ah guarda un po' te e allora è proprio il tartufo bianco che devo leggere come si usa vediamo se lo trovo subito non mi faccio perdere tempo si, si usa appunto un olio per la faccia 3-4 gocce quindi come sapete per la skin care coreana è fondamentale la presenza degli oli poi ancora che coso ho di Mango White It's Skin, scusatemi e Mango White è una crema per la pulizia del viso e anche qui abbiamo tutte le istruzioni su come utilizzarla guardate sono tutti prodotti full size notare poi esempio di Frudia io qui vado a sniffare è bellissimo infatti l'avevo scelta è una crema nutriente idratante scusatemi nutriente idratante al melagrana anche questa vedete è tutto un set praticamente completo per la cura del viso eccolo qua e poi c'è questa maschera wash off di Skin Food al riso e da aspettate volevo dirvelo anche qui da 100 grammi ecco qui quindi diciamo che questa box come potete vedere contiene tutto il necessario per la skin care come vi dicevo perché abbiamo il tonico l'olio la crema per il sapone per per lavare il viso la crema idratante e anche la maschera quindi questa è una box coreana poi mi ha messo anche altri omaggi che vi faccio vedere dopo perché voglio vedere anche la box occhi labbra lei me l'ha divisa in questo modo io ho voluto completare la routine con anche un altro un'altra box per vedere un po' appunto di fare non solo la skin care ma anche la care del resto quindi nella invece maschera occhi labbra c'è lo scrub lip scrub di skin pool avocado sugar io ho le labbra secche e si fanno molto spesso le trigine per cui per me è fondamentale poi una crema per gli occhi contorno occhi all'acido ialuronico di its skin contorno occhi occhi labbra poi ancora di popò dottor popò aiuto dottor popò io comprerei tutto del dottor popò solamente per dire popò ed è naturalmente un balsamo che può essere usato lappertutto labbra faccia mani quello che che vi pare e poi ancora all'interno di questa box ci sono i patches per gli occhi all'oro 24 carati in idrogel quindi queste due poi mi ha messo come vi dicevo degli altri omaggi come questa bellissima io le adoro queste fasce per fare la skin care o per truccarsi ognuno le usa come gli pare e poi mi hanno messo anche due belle gele grazie mille quindi ricapitolando praticamente le due box che potete vedere qui una accanto all'altra di Gildi sono quella coreana che come vi dicevo è personalizzabile in base alle vostre esigenze all'età al tipo anche di marchi che vi piacciono perché no ed è questa e poi c'è la box questa occhi labbra composta appunto da questi quattro oggetti e potete appunto vedere i prezzi sul sito sul suo sito vi consiglio di andare a visitarlo perché lei ha anche tantissimi altri prodotti che possono far comodo a chi appunto ama la skin care coreana la skin care in generale beauty care eccetera eccetera prezzi molto convenienti quindi andate a visitare il sito di Crystal di KV Beauty io vi ringrazio per averci seguito vi saluto e alla prossima con altre novità ciao